Vecino a me adesso vorrei Rubina, Nicola, Serena per proclamare la Miss Montecatini 2023 e Miss Gianni Gioielleria. Mi faccio dire qualcosa, stasera è dovuto, prego. Allora ringrazio anzitutto Vito per averci coinvolto in questo evento fantastico, vedo un grandissimo pubblico e delle bellissime ragazze che io premerei tutte. E complimenti anche alle famiglie che ne hanno, le supportano in tutto quello che fanno perché bisogna seguire sempre l'ispirazione dei nostri figli. Allora la vincitrice, noi stasera doniamo un braccialetto, svelo una piccola sorpresa. C'è un ciondolo con una stellina perché noi gli auguriamo, tutta la famiglia Gianni, che diventi una stella grande. Bello. Come te, ti ringrazio, sei stata fantastica anche questa sera. Io però prima di proclamare la Miss, grazie mille, mi dovete fare una piccola passerella perché ve la meritate. Allora la mia famiglia la farà per me, mio figlio. Allora, scusate, un minuto perché ho dei gioielli fantastici che sono le ragazze che lavorano per me. Ragazze, prego. Vanessa, Ilenia e Lisa. Prego. Ilenia, Lisa, l'ultima entrata, e Vanessa, che passiamo le giornate a litigare. Prego, vorrei una sfilata da qualcosa. Prego. Prego, Serena. Prego. Questi sono i miei veri gioielli. Una bellissima famiglia. Non c'è che dire. Grazie ancora. Vi ringrazio a tutti. Ok. Aggiung-fei. Aggiung-fei. Aggiung-fei.